Ok, allora in questo video vedremo la configurazione di un nuovo router Mikrotik che verrà destinato ad un altro scopo ma che per l'occasione è stato configurato per poter aggregare la banda di due Internet Service Provider di conseguenza quello che si può vedere qui sono alcune schermate principali dove ci sono diciamo così le varie regole e configurazioni necessarie per realizzare diciamo questa cosa quindi per attivare diciamo quello che in gergo si chiama load balancing allora come prima cosa per esempio se noi guardiamo da questa finestra beh adesso sono state definite più cose di quelle che servono ma perché comunque questa configurazione già include qualcosa per diciamo di necessario per quando il router verrà usato nella sua funzione effettiva però sostanzialmente si può vedere due interfacce in questo caso la Ethernet 4 e la Ethernet 5 che sono state così vabbè indicate come point to point verso l'ISP 1 e point to point verso l'ISP 2 praticamente in questo caso c'è la connessione del nostro microtik tramite l'Ethernet 4 al router che ci fornisce la connessione a internet che abbiamo definito come ISP 1 che ha appunto come indirizzo 192.168.1.2 una barra 30 quindi abbiamo solo due indirizzi infatti una punto punto e la stessa cosa abbiamo verso la Ethernet 5 con l'indirizzo 192.168.0.2 una barra 30 anche questa poi nello specifico noi siamo collegati sulla porta Ethernet 2 la management address in modo tale che questa qui sarà diciamo la nostra LAN in questa configurazione momentanea e quindi il nostro computer è connesso qui per cui noi combineremo in pratica con questa configurazione il traffico della Ethernet 4 e della Ethernet 5 e sulla Ethernet 2 vedremo diciamo il risultato di questa combinazione ovviamente non si tratta proprio di una somma algebrica quindi non è che se abbiamo 40 da una parte 30 dall'altra diciamo 40 megabit 30 megabit avremo 70 megabit dipende da come i flussi vengono instradati da una connessione all'altra diciamo che idealmente se si riuscisse a saturare completamente le due bande quello che si otterrebbe sarebbe effettivamente la somma dei massimi che ogni connessione ci può dare però in realtà poi le connessioni vengono aperte e chiuse in una misura in cui non sempre si riesce a saturare la banda comunque diciamo che partendo da questa condizione a questo punto possiamo controllare la tabola di routing per notare qualcosa diciamo di particolare ora non tanto sulla parte inerente le interconnessioni diciamo le route connesse cioè quindi queste che sono state create dinamicamente dal router quindi non è tanto questa la parte interessante ma le route statiche queste diciamo le prime quattro route statiche anche perché il lavoro grosso è svolto lì perché quello che noi banalmente dobbiamo fare è instradare parte del traffico verso internet su un provider allora possiamo notare la prima regola questa che sostanzialmente definisce una route statica verso internet dicendo che il 192.168.1.1 è il default gateway quindi attraverso la Ethernet 4 per raggiungere internet e si definisce una distanza quindi la metrica su quanto questa route è qualitativa la si definisce di tipo 1 per esempio in modo da renderla utilizzabile diciamo dopodiché si definisce questa route statica che qui è in diciamo così è statica ma non è attiva semplicemente per la sua metrica perché è 2 e quindi come metrica 2 è meno appetibile rispetto alla metrica 1 comunque sostanzialmente si dice che esiste anche un altro percorso definito staticamente per andare su internet quindi come destinazione 0000 barra 0 quindi internet sostanzialmente dove si dice che il default gateway questa volta è 192.168.01 che è raggiungibile attraverso la Ethernet 5 solo che però si dà come metrica come distanza la 2 in modo tale che l'uscita tramite la Ethernet 4 sia preferibile all'uscita tramite la Ethernet 2 ovviamente nel caso in cui la Ethernet 4 dovesse fallire entrerà in gioco il traffico diciamo l'instradamento tramite la Ethernet 5 queste sono due instradamenti che sono messi nella tavola di routing principale del router dopodiché invece sono interessanti da vedere queste due righe di configurazione la seconda linea e la terza linea perché questo? perché all'apparenza sembra che ripetano la stessa cosa cioè soprattutto la riga 1 dalla riga 2 sembrano identiche nel senso che definiscono nuovamente una rod statica che in questo caso è attiva perché anche essa ha una metrica 1 dove ridicono nuovamente che per raggiungere internet quindi 0 0 0 barra 0 noi usiamo la default root sulla 192.168.1.1 che è raggiungibile tramite la Ethernet 4 però in questo caso c'è un però nel senso che oltre alla qualità di questa rotta che è diciamo è 1 quindi non è connesso diretto per cui non ha una metrica 0 ma ha una metrica 1 cioè c'è un salto da fare cioè da raggiungere questo host questo router diciamo tramite questa Ethernet ma dopodiché a differenza della prima riga in questa qui c'è in questo campo routing mark c'è un marcatore che dice in stradamento ISP1 stessa cosa sulla riga successiva dove si dice che un altro collegamento verso internet c'è dato da questa default root attraverso la Ethernet 5 in questo caso viene definita con metrica 1 in modo tale che sia equamente utilizzabile rispetto alla default root tramite la Ethernet 4 e anche in questo caso viene detto viene marcata questa connessione come connessione in stradata tramite Internet Service Provider 2 ora queste due righe marcate con questi marcatori consentono di inserire queste due rotte diciamo questi due in stradamenti non nella tavola di routing principale del router ma in una tavola di routing secondaria di conseguenza queste due in stradamenti sono condizionati dalla presenza cioè da poter finire in quella tavola di routing secondaria e come ci finiscono? ci finiscono se i pacchetti che devono in stradare sono marcati con questo speciale marker fondamentalmente ora questa marcatura dei pacchetti quindi chi la fa? beh la fa questa finestra diciamo lo possiamo vedere da questa finestra di configurazione sostanzialmente che riguarda il firewall e sostanzialmente questo tab chiamato mangle allora qui questo diciamo quest'area del firewall chiamata mangle è quella che si occupa di marcare i pacchetti in base a varie situazioni e caratteristiche nello specifico noi del firewall di solito usiamo e conosciamo i primi due tab conosciamo cioè le regole di filtro che in questo caso per lo scopo della diciamo della dimostrazione del test sono state tutte disattivate le regole di firewall in modo tale da non entrare in gioco e non introdurre come dire forzature o cambiamenti ai pacchetti poi solitamente conosciamo le regole di NAT per fare in modo che il traffico interno della rete venga mascherato verso il traffico esterno in questo caso si può vedere che ci sono due regole di NAT la prima che consente a tutto il traffico interno quindi nella catena la chain nella catena del source NAT quindi del traffico interno di poter raggiungere tramite l'interfaccia esterna Ethernet 4 praticamente internet mascherando gli indirizzi interni quindi questa prima regola dice mascheriamo gli indirizzi interni che escono sulla Ethernet 4 per andare poi chiaramente su internet attraverso il router che si trova sulla Ethernet 4 ma c'è una regola equivalente che dice la stessa cosa sulla Ethernet 5 cioè dice mascheriamo tutti gli indirizzi interni quindi quelli della LAN che sono gli stessi perché quelli arrivano dalla Ethernet 2 dice mascheriamo questi indirizzi che quindi diciamo facciamo una traslazione di indirizzi da molti a uno quando andiamo fuori tramite la Ethernet 5 quindi diciamo normalmente quando noi abbiamo la connessione di un router con una connessione singola verso internet noi abbiamo solo una di queste due righe in questo caso ne abbiamo due perché noi abbiamo due potenziali connessioni verso internet ma quello che veramente consente di creare questa decisione in modo tale che poi nella tavola di routing possa avverarsi il fatto che il pacchetto venga instradato tramite la riga 2 o la riga 3 diciamo anzi che vengano instradati sia tramite la riga 2 che la riga 3 contemporaneamente è praticamente fatto da da queste regole di Mungol che andiamo a vedere così velocemente e sostanzialmente partono dalla riga 3 alla 12 le prime sono solo diciamo configurazioni di default necessarie per poi poter analizzare il traffico ma quello che ci interessa sono queste righe qui in cui sostanzialmente l'azione che viene eseguita in queste righe è prevalentemente marcare le connessioni marcare la connessione marcare il routing accettare del traffico marcare la connessione marcare il routing come vedete sono sempre a coppia perché praticamente noi abbiamo due parcorsi da gestire e devono lavorare a coppia queste regole quindi la riga 3 sarà uguale alla riga 4 adecenza fatta dell'interfaccia che è diversa la riga 5 sarà uguale alla 6 adecenza fatta di un'interfaccia ora qui non si vede perché il comando prevede altre cose però diciamo sono differenziate dalle due interfacce idem la 7 e la 8 come vedete sono differenziate sono entrambe regole che si applicano all'interfaccia d'ingresso della LAN però in questo caso come indirizzi di destinazione sono le due subnet punto punto di interconnessione verso il router verso i due router che danno accesso a internet idem qui nelle regole di pre-routing eccetera per cui se noi adesso andiamo a guardarne per esempio una della input noi vedremo che si dice che quando abbiamo una input sulla ethernet 4 praticamente come azione andiamo a fare marchiamo la connessione tramite connessione che arriva dall'internet service provider 1 quindi questo è semplicemente un'etichetta che viene inserita ai pacchetti per cui sul traffico in entrata dalla ethernet 4 i pacchetti vengono marcati come internet service provider 1 idem questa regola vengono marcati quindi quando i pacchetti entrano sulla ethernet 5 quindi l'altra porta verranno marcati come internet service provider 2 quindi in questo modo noi facciamo sì che quando da internet verso l'interno ci giunge una richiesta di connessione quindi una richiesta diciamo dall'esterno noi marchiamo i pacchetti come internet provider 1 internet service provider 2 dopodiché abbiamo le regole in uscita invece che sostanzialmente dicono quando noi usciamo dal router con pacchetti diciamo che sono stati precedentemente marcati come internet service provider quindi il pacchetto è già marcato in questo modo noi automaticamente cosa facciamo marchiamo come azione il routing dicendo root verso isp1 quindi se noi andiamo a trattare un pacchetto che ha questo marcatore allora andiamo ad attivargli nella diciamo nell'informazione relativa al routing di questo pacchetto gli andiamo ad attivare questa label chiamata root verso isp1 che guarda caso è questa label che c'è nella tavola di routing idem andiamo a fare sull'altra regola l'andiamo a marcare come regole di isp2 quindi se noi abbiamo in uscita un pacchetto che contiene già questa label che è stato già marcato come un pacchetto che era provenuto dall'internet service provider 2 bene noi dobbiamo come azione marcare il routing di questo pacchetto dicendo deve essere instradato tramite isp2 quindi il concetto di base è se un pacchetto mi arriva in entrata e io lo riconosco come proveniente da internet service provider 1 io devo marcarlo in uscita in modo tale che l'instradamento sia tramite l'internet service provider 2 e viceversa con l'internet service provider 1 cioè diciamo se entra con l'1 esce con l'1 se entra dal 2 esce con il 2 ok a questo punto poi abbiamo regole di pre-routing quindi regole che avvengono prima che il routing possa avvenire ok queste qui di input output sono in entrata in uscita prevedendo il routing in questo caso sono di pre-routing e qui diciamo abbiamo delle regole che dicono se noi abbiamo un traffico che deve essere destinato al sostanzialmente al router attaccato all'interfaccia 4 che ci provengono dall'ethernet 2 quindi dalla LAN quindi il traffico che ci proviene dalla LAN e che viene destinato a questo instradamento allora noi lo accettiamo quindi accettiamo il traffico che dalla LAN va verso quell'instradamento internet stessa cosa accettiamo il traffico che va verso l'altro instradamento proveniente dalla LAN poi marchiamo le connessioni qui che cosa facciamo se marchiamo il traffico della LAN cioè se noi abbiamo traffico che arriva dalla Ethernet 2 quindi dalla LAN quindi come come catena pre-routing quindi prima che possa essere no instradato inoltre abblichiamo questo classificatore per per porta quindi per entrambi gli indirizzi e le porte ok inoltre per il traffico che non è locale sostanzialmente dove c'è la destinazione non è traffico locale quindi è traffico che deve uscire dal nostro router no non stiamo instradando verso un'altra subnet locale ma stiamo instradando perché qui vedete che c'è il locale ma poi c'è l'inverso quindi la funzione not ok di negazione allora a quel punto andiamo a fare un'azione di marchiamo la connessione come connessione verso diciamo che deve essere destinata all'internet service provider quindi in questo modo noi generiamo il marcatore per il traffico entrante no se noi generiamo del traffico che deve essere diciamo così ehm destinato no a come si dice alla che non è locale e praticamente lo facciamo marcare come internet service provider 1 ok sostanzialmente stessa cosa la facciamo su questo lato quindi andiamo a marcare una connessione che arriva sempre dalla LAN che praticamente in questo caso vedete che qui era prima 2 0 qui è 2 1 ok quindi praticamente andiamo a marcarlo sull'altra porta in modo tale che iniziamo a differenziare il traffico cioè lo facciamo andare un po' da una parte e un po' dall'altra traffico che ovviamente che non è destinato sempre al servizio locale in questo caso lo marchiamo per andare su come internet service provider 2 in questo modo il traffico che noi generiamo dall'interno lo iniziamo a distribuire un po' di qui e un po' di là sostanzialmente e a questo punto marchiamo routing no perché noi a questo punto diciamo il traffico che arriva dalla LAN e che contiene già il marcatore ISP1 connection diciamo in pre-routing quindi prima che venga trattato dal router allora marchiamolo come traffico da indirizzare a route ISP1 quindi in questo modo noi abbiamo marcato le connessioni dall'esterno per essere instradate come ISP1 o ISP2 e marcato quelle generate dall'interno come indirizzabili verso ISP1 e ISP2 a questo punto ecco che abbiamo popolato diciamo avremo del traffico che finirà all'interno di questa tavola di routing secondaria in base a questo marcatore e in questo modo diciamo riusciamo a fornire traffico a entrambe le interfacce e quindi poi a riceverlo da entrambe le interfacce quindi con queste regole noi garantiamo che se una cosa arriva dalla ISP1 giungerà diciamo alla nostra LAN in quel modo e poi le risposte verranno ridirette nuovamente verso la ISP1 e viceversa dal 2 adesso vedremo una piccola dimostrazione in cui andando a scaricare diciamo un grosso file noteremo come il traffico sulle due interfacce viene distribuito e vedremo proprio la somma del traffico delle due interfacce distinte quindi avremo delle schermate adesso diverse qui caricate in console in modo tale da poter vedere l'interfaccia Ethernet 4 la 5 e la 2 che sarebbe l'aggregata diciamo e con dei grafici e dei valori vedremo effettivamente quanta banda andremo a distribuire tra le due connessioni allora vediamo la configurazione qui del router che abbiamo adesso stiamo controllando il traffico delle tre interfacce Ethernet la 4 dove praticamente c'è collegato il provider numero 1 poi abbiamo la 5 dove c'è collegato il provider 2 e la 2 che praticamente è la LAN cioè dove c'è l'aggregazione dei due provider quindi adesso andiamo a fare un download di un file molto grosso per esempio questo video che è 3 giga e vediamo effettivamente la banda quant'è allora adesso vediamo che da un provider sta scaricando più o meno sui 35 megabit e dall'altro provider 15 50 e vediamo che il traffico aggregato in questo momento è stato con dei picchi di 80 85 chiaramente è un po' variabile comunque diciamo che raggiunge delle punte sugli 80 50 30 70 si vede qui questo valore diciamo comunque che varia a seconda di come sta bufferizzando diciamo il download del video allora 80 60 90 diciamo che da delle punte del genere infatti vediamo come ripartito su un provider addirittura su questo 90 megabit da solo su questo in questo caso il primo provider ecco adesso sta dando anche lui qualcosa a secondo diciamo di come i flussi vengono distribuiti tra i due provider ecco che qui abbiamo 30 16 17 qui 40 quindi in totale 70 insomma diciamo che si può vedere ecco in questo caso già sta sostenendo un po' più di banda adesso è sceso comunque diciamo che abbiamo un incremento di indubbiamente di banda anche se a secondo di come vengono distribuite diciamo i pacchetti tra le due connessioni ci sono dei momenti in cui la somma diciamo è piuttosto bassa però poi ci sono dei momenti in cui supera diciamo il valore che la singola connessione avrebbe potuto dare insomma si vede che c'è una discreta mole di dati che viene trasferita infatti se noi andiamo a guardare il download vediamo che si ogni tanto ha queste sue interruzioni per bufferizzare però poi viene scaricato diciamo 5 megabit al secondo 3 6 7 10 addirittura e quindi insomma in base a quello abbiamo qui valori diversi appunto come in questo caso sui 70 50 70 60 e così via esatto quindi diciamo possiamo notare appunto un incremento di banda decisamente interessante rispetto alla singola interfaccia che